Una volta l'unità d'Italia era il vessillo che tutti sbandieravano. Destra e sinistra, seppur con pensiero diverso, guardavano al paese come un'unica terra da ammirare, da far decollare all'unisono regione per regione. Poi è arrivata l'Europa come stella cometa, dove tutte le nazioni del vecchio continente dovevano confluire per trasformarle in una grande potenza. Il tempo è passato, anche attraverso la questione morale, sempre più degradata, diventata rovina di fronte al crescere degli scandali della corruzione. Poi le divisioni feroci all'interno dei partiti, sradicati dalle origini per trasformarsi in nuovi soggetti che più che unire dividevano. Oggi la politica è confusa. Ci sono gli altalenanti comportamenti di addetti al potere che invece di unire puntano a dividere. Il grande male che coinvolge il mondo, il coronavirus, sta ulteriormente dividendo. I politici blatterano, si azzuffano per dividersi lo stivale, per buttare al macero gli ideali costruttivi del passato per cui molti hanno sacrificato la vita. Sono morti i resistenti, è morto Aldo Moro, è morto Enrico Berlinguer, sono morti i tanti che volevano costruire un'Italia diversa. È arrivato il coronavirus oggi come ulteriore movimento di divisione, così le regioni sembrano voler diventare stati, con presidenti che assurgono il ruolo di governatori per andare ognuno per la propria strada. Io apro, io chiudo. È diventato il giochetto di queste settimane, un gioco pericoloso sulla pelle della gente, del popolo, per favore politici, unitevi e dateci la speranza di uscire, almeno in questo momento, da questo tunnel e non aggravate la situazione sia economica che sanitaria.